Peghi diciotto, in italiano! Eh sì, questo è il bagno, cazzo! No, non c'è... Nooo! Il bagno! Dio! È lui, cazzo! No! Badonna! Dio mio! È lui! Vestiglia, guarda, guarda... Nooo! Pensate! Goddard! Mary died of that damn disease three years ago. Hehe! Ma che leon! Ma come leon! James! Puoi dirlo. A me il modello di James non piace. Mi preferisco con l'originale. Sì. Però l'ambientazione ammetto che è bellissima. Sì, 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 sì. Vatta, vacca boia. Ma sei roito. Ma no! Eh... Glooper Team! Glooper Team! Il Glooper Team! Sono quelli che hanno fatto... Porca! Minchia! Questa è scena dello stupro! Sì! Oddio! Questa è scena dello stupro! No, vabbè! Spettacolo! Oddio! No, James comunque non mi piace. Che il resto è tanta roba. Ma non mi piace. Lui... Ha perso un po' di... Più lo guardo, più non mi piace. Di lineamenti, di... Caracca... Ora è tutto finito. Eh! Eh, sì eh! Questo è il momento in cui... Riccita su di... Non ho più bisogno di sì. Dio la faccia! Ma... No! Che brut... No! No, mi piace, essere sincero. No, 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 no. Lui è bruttino, eh! Abbastanza. Abbastanza bruttino, sì. Ah, questo è il Rosewater Park, ok? Quindi quando si incontra con Maria... Mary? 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 Basta, finito. Urca! Eccola! Eccolo! Eccolo! Tac! C'era lui, eh! Madonna! PS5, amica! Ah! Ma... Ma... Per la 4 no? Esclusiva? Non esclusiva PS5, eh! Ma avevo capito che... C'era anche per la 4, no, eh! Esclusiva PS5? Sì, sì, è remake, sì, sì. Ah! Bene! E tutto ritorna a Silent Hill 2, no? Come se Silent Hill 2, come se fosse... Fosse solo lì, no? Sì, sì, sì. Forse è iniziato tutto da Silent Hill 2, ma era Silent Hill 1, però, va bene. Eh, queste sono le mie solite considerazioni, ma va bene, è un po' palese che un po' me l'aspettavo, nel senso che immaginavo che, col fatto che volessero tornare alla grande per far, diciamo, riavvicinare i fan e anche non fan, puntassero tutto sul 2, perché il 2 è quello più amato, è quello più... Eh, sì. Universalmente è quello che tutti hanno pensato. È quello più conosciuto, sì. Sì, però, come di come ho già detto più volte, io non sono troppo contento di questa notizia, cioè, contento sì, ma non del tutto, perché avrei preferito, e continuerò a dirlo, io avrei preferito di gran lunga un remake del primo, perché il primo avrebbe tante di quelle cose da raccontare... Eh, allora non sono l'unico, eh. No, no, cioè... Non sono l'unico. Sono convinto che, almeno personalmente, doveva essere così, cioè, dovevano annunciare il primo. Sì. Sono proprio un po' molto... Ci sono tanti, tra l'altro, che hanno provato a realizzare, ovviamente, mi fa meglio, sì, 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 sì. Il primo è stato tanta roba, se l'avessero realizzato loro. Sì, sì, ma poi alcuni dicono, eh, ma è già uscito Shattered Rememories. Eh, ma... Ma quello è un reboot. Eh, sì, è un po' diverso. Quello è una riscrittura. Eh, sì. Il primo capitolo, cioè, hanno preso il primo gioco e l'hanno completamente riscritto. Sì, 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 è vero, è vero. Perché se tu li guardi sono completamente differenti, non c'è nulla che li accomuna. Ma è giusto così, perché voleva essere una sorta di riscrittura nel primo capitolo. non è stato mai pensato per essere un remake. Quindi, non so, io... Ragazzi, io sono contento, ma... A metà? Il 2 poteva non essere toccato. Ma sì, perché tanto, ragazzi, diciamocelo, il 2 è un gioco che si può giocare anche oggi. Oh, l'hai detto. Non mi venite a dire che è un gioco che ha delle meccaniche difficili. No, non riesco a giocare. No, assolutamente. È giocabilissimo anche oggi, ragazzi. Non diciamo cavolato. Infatti, infatti. E tra l'altro, ripeto, è proprio un capitolo fatto e finito di per sé. Cioè, è un titolo che da solo regge perfettamente. Eccolo. Non c'era bisogno di fare remake, approfondimenti. No. Cioè, io... Lo so, magari sono ripetitivo, lo so, l'ho già detto. Però io rimango fisso dell'idea che dovevano fare il primo. Io... Io pure, guarda, non... Per carità, ho visto come l'hanno fatto. Sembra bello. Però, come diceva prima Shepard, io sono anche d'accordo con l'ha scritto... Leggo esattamente cosa ha scritto Shepard, che ha scritto un po' prima. Io comunque, considerando l'esclusività Sony, avrei dato il progetto di remake a Bluepoint. E qui sono tardissimo. Potrebbe starci, sì. Perché loro avrebbero fatto un grandissimo lavoro. Eh, tanta roba. Lober Team, insomma... Bu... Hanno fatto dei buoni... Sì. Hanno fatto anche delle cavolate. Quindi, non lo so, eh. Non lo so, non lo so. Cioè, io sono d'accordo su quello che ha detto Shepard. Cioè, Bluepoint era molto più appetibile. Per fare qualcosa di più mastodonico. Eh, di più massiccio. Esatto. Eh, cacchio. Non lo so, poi magari... Non lo so, poi magari... Magari ci smentiscono e... Boh, vedremo. Non so. Per me ho grossi dubbi. Uno, non aver fatto il remake del primo, che ne ha infinitamente bisogno rispettare... Esatto. Ed è quello che abbiamo detto fino adesso. Infatti, 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 è vero. Perché non ci hanno pensato. Cioè, io, ripeto, lì ci sono due... L'unica spiegazione che mi vengono a dire sono... Vuoi accontentare i fan e quindi fai il remake del 2 perché tutti adorano Silent Hill 2 e quindi vuoi i soldi facili. Eh, sì. Non è che... Cioè, ragazzi, Konami... Konami, come a qualsiasi casa... Il dinero. Mi spiacciono i soldi. Però, loro, diciamo che su questo, sono degli specialisti. Quindi... Basta vedere i pacinco. Quindi, come dire... Non lo so. Cioè, io non mi fico... Cioè, la vedo più come una manovra di questo senso. Sarà una visione negativa. Probabilmente un po' troppo... Però, secondo me, è così. Cioè, non ci vedo tutta sta... Tutta sta ricchezza in questo remake. Sì, ok. Gli ambienti sono bellissimi. Sì, sì, per carità. Le atmosfere sono rifatte da Dio, sicuramente, se... Però, caro James... Caro James... James, però, è inguardabile. No, è veramente brutto. È veramente brutto. Già l'originale non è che fosse tutto il popolo lavoro. No, però... Un po' di personalità. Io preferisco quell'originale. Eh, infatti, infatti, è quello. È quello, è quello. No, questo è... Bu... Abbastanza... Poi c'ha un viso che, non so, mi convince poco. Non so... Sono un po' nono, un po'... Eh... Non so, mi dice poco. Mi dice poco e... E non mi convince al tempo stesso. No, 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 assolutamente, assolutamente. Vabbè. Puoi cosa dire? L'Ober Team non mi sembra così all'altezza per l'IP, considerando i progetti passati. Mille volte meglio un remake del primo e mettere sul PC il 2, 3, 4, disponibile, non stato con compatibilità per i sistemi moderni. Ecco. Questo sarebbe stato, infatti, una manovra fantastica, se avesse fatto una roba del genere. Fai il remake del primo e metti il 2, 3, 4 insieme, che tra l'altro esiste già una Silent Hill Collection, uscita per PlayStation 2, che conteneva il 2, 3 e 4. Sì. E... Fai una cosa del genere e fai il remake del primo. Eh sì. Questo sì, sarebbe stato proprio da esplosione di gioia. Ma io ti dico, il quarto, se non è, cioè ce l'ho il quarto, è uscito su, lo conosci da GOG, Good Old Games? Sì. Che è lo store di CD Projekt. Lì c'è Silent Hill 4 adattato ai sistemi moderni. Non è proprio una remastered, ma poco ci manca. È stato riportato, sì, 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 sì. Eh, conosco bene, sì, sì, però, cioè, quello potevano farlo anche per i due, i tre. Eh, infatti, infatti. Non c'è bisogno di fare un remake, è necessario. Eh, 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 eh. Faccio il James parla di un vecchio depravato e non si fa una cosa da me. La faccia di un vecchio depravato, madonna. Esatto. Fantastico. Allora, queste fanno un grande lavoro, buon per loro, buon per noi, ci mancherebbe. Sì, beh, vedremo. Però, ripeto, io, cioè, non ci vedo proprio il senso di, cioè, lo fai proprio, cioè, ripeto, lo fai proprio palesemente per accontentare i fan. Sì, è fan service. Sì, fan service. Fan service, schietta. Eh, è palese che lo fai per quello, non lo fai perché hai amore veramente per Silent Hill. Lo fai perché vuoi soldi, facili, basta. Cioè, è quello, mi piace. Io la vedrò sempre così. Per me sarà sempre così. Un remake del primo sarebbe stato qualcosa che veramente avrebbe pupito, a mio parere. Perché con tutte le ambientazioni che ci sono, la scuola, l'ospedale. Mamma mia. Cioè, l'incube di notte, io. La città che viene invasa dal mondo alternativo. Ma ragazzi, ma che figata sarebbe stata? Mamma mia. Oh, ma vuoi mettere in confronto? Eh. Sarebbe stato qualcosa di stupendo. Assolutamente. Letteralmente superlativo. Assolutamente. Però, vabbè, io me l'aspettavo perché, vabbè. Te la sentivi colare dal naso, diciamo, no? Te la sentivi colare dal naso che... Sì, 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 c'era lì che, sai, poi tutti sti leak che uscivano, sai, alla fine, vuoi o non vuoi, alla fine si sono rivelati, erano giusti. Sì, 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 sì. Però, era uscito anche un leak, tempo fa, di questo Silent Hill short message. Io questo short message non l'ho mica visto. Non l'hanno proprio neanche menzionato. No. Proprio, non saprei. Anche su quello, allora, era proprio una cazzata, immonda, allora. Eh, facile, eh. Perché, a sto punto, se non è stato neanche minimamente menzionato... Mi sa tanto. Io l'ho sottettuto per Natale. No, grazie, Andre. Mi sa tanto. No, quella di James, no. Se vuoi regalare, quella di... Vuoi regalare? Quella di Maria, guarda, va benissimo. Eh, quella è bella, eh. Quella è interessante. Però sono curioso sul... Sul film, eh. Potrebbe... Il film, no, allora, il film sì. Allora, quello anche a me intriga un sacco. Perché, allora, un film ispirato a Silent Hill 2 è tanta roba. È tanta roba. Cioè, io sono sicuro che sarà un filmone. Ma ne sono certo. Oltre al fatto che... Oltre al fatto che, ovviamente... C'è Christopher Gans, che è una garanzia da questo punto di vista. Ma come hanno preso ispirazione tutto... Quello... Eh, veramente... Non vedo l'ora. Per quello non vedo veramente l'ora. Sono qua che... Qua che non vedo... Non aspetto altro. Ciao, Aki! Ah, ah, quindi Short Message era il nome in codice di Ascension? Ah. Ah, ok. Il terzo gioco, secolo. Ah, ok. Mi ero dimenticato questo dettaglio. Vedi, vedi. Vabbè, allora sono stati di parola, dai. Sì. È stato confermato quasi tutto, allora. Ok, quindi praticamente... Derek, io direi che ti lascio. Sì, sì, va bene, va bene. Vai tranquillo, ti lascio fare la tua live. Ci sentiamo in questi giorni. Dai. In questi giorni ci aggiorniamo. Ok. Dai, un bacione anche a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.